La giornata mondiale contro il cancro rappresenta una opportunità per l'Associazione Italiana di Oncologia Medica di evidenziare come in Italia ci sia una sopravvivenza a 5 anni ai tumori che è superiore alla media europea e sui livelli addirittura a volte meglio di quelli che sono gli stati più importanti dell'Europa. Questo è dovuto al fatto che abbiamo un sistema sanitario nazionale che ci consente di ottenere questi risultati perché consente a tutte le persone di accedere a tutti i trattamenti necessari. Ci sono però ancora dei miglioramenti che devono essere fatti e su questo IOM non può che far sentire la sua voce che sono legati al fatto di come alcune realtà preventive, sto parlando di screening, siano diverse negli diversi punti del territorio nazionale, di come l'accessibilità ad alcuni test e ad alcuni trattamenti possa differenziarsi tra regione e regione, mentre l'ideale sarebbe quello che tutti potessero avere le stesse opportunità che devono essere il meglio dal punto di vista del risultato per il paziente e della sostenibilità del sistema perché in assenza di sostenibilità il sistema rischia di non riuscire a funzionare e questo potrebbe creare delle difficoltà. Allora in questa giornata sostanzialmente ci siamo sentiti di segnalare queste problematiche perché abbiamo ancora alcune cose che vanno migliorate e vanno migliorate anche in termini di informazione e di formazione, di formazione degli operatori e di informazione della popolazione. Se l'idea è non vado a fare il test di screening perché se mi trovano qualcosa chissà cosa succede occorre far capire dal messaggio che se si trova qualcosa in una fase iniziale le probabilità di guarigione o comunque anche quando non ci sia la guarigione di cronicizzazione della malattia sono decisamente superiori a se invece si dovesse trovare la malattia in fase avanzata perché in quel caso i trattamenti sarebbero meno efficaci, più dispendiosi per il sistema sanitario e con dei risultati che non sarebbero ottimali dal punto di vista e della salute pubblica e del singolo paziente.